Salve a tutti chiudegliani e bentornati in questo nuovissimo video di... I wanna be the guy the movie the game Perfetto, startiamo subito Non mi fa premere start Già mi via per culo Cosa devo cliccare? Cosa devo cliccare? Perché la? Come si fa a saltare sto gioco? Non so se si può saltare Si che si può saltare Vabbè noi andiamo giù Forte sega Allora andiamo 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 E' spietato Ma come si fa a saltare? T Y U I O P Sto premendo tutti i tasti signori Tutti Spara anche In questo gioco si può sparare Magari shift Sono già in difficoltà Ok ci sono Ma che cazzo Ma dai ero qua Ci ho messo un quarto d'ora per arrivare lassù Ok 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 Questa Questa dovrebbe Questa cosa fa? Questa non cade? Questa cadrà? E basta Ok Ok la prima è andata La seconda Queste dovrebbero cadere Ma non cadono Ok Ok Questa cosa fa? Oh Ok quelle due cadono Ok ok Queste due Cadono Ok Questa pure Ok Questa ma che cazzo fanno? Questa cadrà? Ah lei che ti ho inculato No 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 Ok 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 Comprendetemi Comprendetemi sapete Ho iniziato a registrare 40 minuti fa Sono ancora qua Già lo amo questo gioco Già lo amo Oh Basta Ho una vita Non è vero Allora se colpisco un'altra mia Ti giuro ti prendo lo scroto Te lo divido in due Come una puttana Ma perché Tra tutti i giochi che ho Potevo fare un rage game No 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 Ci scommetto il mio pene Che quella mela viene qua su Quanto vi ci scommettete? Ok 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 No 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 Io vivevo la mia vita tranquilla Giocavo Facevo i miei cazzi Compiti Facevo merenda Una volta vivevo Prima di questo gioco Dai Mamazzi Mi puoi passare il coltello per il pesce per favore Grazie Questa cazzo di testa non c'è niente E mi dimentico E mi dimentico Mi dimentico Che proprio mi sto divertendo in una maniera assurda Voi non lo vedete perché non vedete in faccia proprio L'espressione di uno che proprio Si diverte proprio da morire Ok signori ok Manca una mela Una fottuta mela Io ti odio Se tu mi fai perdere ti giuro Ammazza tutte le mela Chi ci possono essere nel mondo Te lo giuro Te lo giuro Ok ok Bravo Bravo Lì c'era il salvataggio signori Dai doppia sfina per me Vaffanculo e wanna be the guy Lo faccio così Non mi interessa niente Però ho paura di Hello It's me E siamo di nuovo noi due Mela di merda Qualcuno mi salvi Vi prego Vi dà 50 euro Se mi salvate da questo Ho proprio Qua 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 la divisione Basta 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 Signori Sperate Questo video Sperate Il passaggio A Facebook E Instagram Come il video Ascrizzi Al prossimo video Vaffanculo Ci vediamo al prossimo episodio Di wanna be the guy Guy Ciao Ciao